Ci siamo Partiti Dall'esterno Who's Next, all'interno c'è finalmente Biondi, poi Pirrone Abba Rose Segue Secret Flay con Who's Next, che l'ha messa sul ritmo, non si risparmio in avanti Aldo Carboni con Who's Next Finalmente Biondi e Pirrone insieme ad Abba Rose Inseguono la leader, lasciando poi pochettino più indietro Secret Flay in coda ad un paio di lunghezze Dory Den, così sei concorrenti con Who's Next al passaggio davanti alle tribune In chiara evidenza sul resto del gruppetto, cappeggiato sempre da finalmente Biondi Che è in scia Pirrone all'interno Abba Rose Segue questi Secret Flay in coda a cinque lunghezze, galoppa Dory Den Who's Next ha respirato al passaggio davanti alle tribune, ora prova a ripartire a un margine sempre di due o tre lunghezze Sull'arresto del gruppetto con Pirrone all'interno di finalmente Biondi Poi la risalita di Secret Flay che scavalca Abba Rose in coda sempre Dory Den A mille metri dalla conclusione, Who's Next prova a ripartire Sempre un margine buono da gestire, sempre 4-5 lunghezze sul resto del gruppetto Muove Secret Flay in maniera molto ficcante tra i cavalli E allora Who's Next che è in vantaggio, Secret Flay che si propone bene al suo esterno Poi all'interno c'è Pirrone, poi all'esterno finalmente Biondi che sul parziale però ha perso leggermente contatto da questi Più indietro Dory Den e Abba Rose con Who's Next in vantaggio Finalmente Biondi che però è ancora un po' dietro, ora prova a ritornare All'esterno c'è Secret Flay, montato anche lui, all'interno c'è Pirrone Who's Next contro Pirrone, Secret Flay, treno aperta lotta in diagonale Dall'interno Pirrone, di fuori Who's Next, più all'esterno Secret Flay Con Pirrone che attacca all'interno Who's Next, di fuori c'è Secret Flay Lo scatto di Secret Flay su Pirrone, Secret Flay che passa in vantaggio nel tratto finale Secret Flay, Secret Flay Luca Vagnezzi su Pirrone, Who's Next, Dory Den, finalmente Biondi Abba Rose Secret Flay chiude da favorito alla fine, ci ha visto bene in chiusura di gioco la punta Che ha appoggiato Secret Flay, l'allievo di Ale Pastorelli, la scuderia La Clementina Numero 3 che vince, 2-51, Luca Magnezzi Al secondo c'è un ottimo Pirrone, numero 7